Intanto il rinnovo degli organi camerali sta andando avanti perché il decreto accorpa Palermo ed Enna e quindi dopo l'arresto di Elg c'è una fase commissariale stabilita dalla Regione e nell'ambito della procedura di assegnazione dei seggi abbiamo notato che c'era un fenomeno che ci ha lasciato particolarmente sorpresi, un fenomeno fatto da migliaia, con esplosione di migliaia e migliaia di imprese. Noi che come Confcommercio sappiamo in un momento anche di crisi associativa cosa significa fare associati ad uno ad uno e quindi esplosione di migliaia di nominativi ci ha lasciato sorpresi, facendo un accesso agli atti per verificare chi corrispondeva nello specifico come aziende a quel numero di migliaia e migliaia di imprese abbiamo notato cose eclatanti che siamo andati a denunciare, per esempio fra tutti che all'interno di un'associazione di categoria che dichiarava e quindi dichiarava a un ente pubblico per questo procedimento dichiarava i propri associati, tra questi associati c'è l'ente bilaterale per esempio c'è la vicepresidente di Confcommercio, c'è il presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio c'è anche lei ci sono presidenti, me lo stavo lasciando come chicca finale, c'è anche la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio a sua insaputa ovviamente a mia insaputa, quindi abbiamo raccolto in pochi giorni le prime dichiarazioni di quelle cose veramente talmente eclatanti da diventare quasi atroci per questa diciamo anche esagerazione e abbiamo depositati con una denuncia, una querela denuncia alla procura perché si affermi la legittimità, la affermi la legittimità dei numeri e della rappresentatività delle imprese organi preposti che faranno chiarezza e consegneranno diciamo un procedimento che sia legittimo un procedimento possibilmente più trasparente rispetto a quello che è stato finora è una garanzia soprattutto di chi ci crede in questo procedimento, in questo rinnovo degli organi a chi crede comunque in un progetto di Camera di Commercio che almeno sia rappresentativa del numero delle imprese e delle associazioni a parte poi rappresentativa degli interessi veramente collettivi di questo territorio perciò con tutto quello che non rispecchia i valori è l'essere per bene ed essere per bene rappresenta e rispecchia tanti di quei valori che non sono più nemmeno etica e legalità e purtroppo la perversione del sistema, questo sistema che probabilmente non è il nostro desiderio di garanzia nel nostro desiderio di trasparenza, di affermazione di legittimità dei dati io diciamo bene, vogliamo anche capire i fenomeni, se ci sono ne prenderemo atto però nel momento in cui ci abbiamo appena messo le mani abbiamo verificato delle cose davvero eclatanti che manifestano anche tracotanza, quindi anche nell'atteggiamento nel metodo e noi diciamo bene, noi non accetteremo mai un sistema evidentemente fatto apposta in maniera poco trasparente anche perché nel passato, diciamo, dovesse fare da sfonda ad altro tipo di accordi che non sono soltanto invece mettere al centro la rappresentatività delle imprese